Oggi voglio presentarvi un giochino molto semplice che mi è arrivato da una suggestione di Tommaso, uno dei miei bimbi. L'altro giorno mi ha inviato un filmato suo in cui scriveva delle letterine utilizzando cartoncino di recupero, mollette di legno e delle letterine. Oggi parliamo di barca. Per non sprecare le mollette di mamma mettete un po di plastilina e fatevi aiutare a disegnare dei pezzettini di carta con le lettere. E ora via, componiamo la parola vela. V, aiuto la E, la L e la A. E poi barca. Potete scrivere tutte le letterine dell'alfabeto e comporre le parole che più vi piacciono. Ciao!